Siamo qui, pomeriggio con noi, sono le... 18.35, Debbo, è facile, è facile. Ah, 18.35, te l'hai disegnata? È facile, ho l'orologio, esistono questi cosi che se tu te li metti al polso, leggi l'ario, credo che dovresti averlo anche tu. Mamma mia. Allora, l'Università degli Studi Niccolò Cusango, torniamo seri, ha scritto una lettera aperta al Ministro della Pubblica Amministrazione, il Professor Renato Brunette, alla Ministra dell'Università della Ricerca, la Professoressa Maria Cristina Messa, e per conoscenza anche al Presidente del Consiglio dei Ministri, il Professor Mario Draghi, in riferimento all'iniziativa PA 110 e l'Ode, che consentirà a tutti i dipendenti pubblici che lo vorranno di usufruire di un incentivo per l'accesso all'istruzione terziaria. corsi di laurea, corsi di specializzazione e master. La lettera la trovate scritta in toto, tutta quanta, su TAG24 Bioni Cusano, ma è giusto che noi adesso ve ne diamo conto. L'Università degli Studi Niccolò Cusano ha scritto una lettera aperta al Ministro della Pubblica Amministrazione, onorevole prof Renato Brunette, alla Ministra dell'Università e della Ricerca, Professoressa Maria Cristina Messa, e per conoscenza al Presidente del Consiglio dei Ministri, il Professor Mario Draghi, in riferimento all'iniziativa PA 110 e l'Ode, che consentirà a tutti i dipendenti pubblici che lo vorranno di usufruire di un incentivo per l'accesso all'istruzione terziaria, corsi di laurea, corsi di specializzazione e master. Illustrissimo Signor Ministro della Pubblica e Amministrazione, onorevole professore Renato Brunetta, Illustrissima Signora Ministra dell'Università e della Ricerca, Professoressa Maria Cristina Messa, stiamo a chiedervi spiegazioni dettagliate sul protocollo d'intesa appreso tra i vostri ministeri a proposito dell'oggetto. Ci risulta che nel Sistema Universitario Nazionale siano ancora incluse le università degli studi cosiddette telematiche e non riusciamo a capire come sia stato possibile tra voi creare un accordo che esclude le università in questione, perché non facenti parte della CRUI. Ci risulta incredibile apprendere che la CRUI è più importante del Sistema Universitario Nazionale, o meglio del Ministero rappresentato dalla professoressa Maria Cristina Messa e mi sembra paradossale che il suo ministero, illustrissima professoressa Maria Cristina Messa, si possa presentare alla trattativa privata tra un Ministero dello Stato e un'associazione privata che non può certamente essere superiore al suo ministero. Illustrissimo ministro onorevole professor Renato Brunetta, l'unico usano reputa abominevole che la sua volontà sia quella di escludere parte del Sistema Universitario Nazionale, anche se parte eccellente e considerata dal punto di vista scientifico di altissimo profilo, dall'accordo che il ministero da lei rappresentato ha fatto con il Ministero dell'Università della Ricerca, ma che poi ha escluso le università che voi continuate a chiamare telematiche. Illustrissimi signori ministri, Unicusano ha inviato questa lettera a voi, al Presidente del Consiglio dei Ministri, il professor Mario Draghi, per conoscenze a tutti i segretari dei principali partiti politici nazionali, perché reputo questa vostra scelta assurda, razzista e totalmente anacronistica rispetto alla realtà che l'Italia, l'Europa e il mondo stanno vivendo. L'Italia ha bisogno di ministri illuminati, mentalmente giovani, visionari e di alto profilo, tutte cose che Unicusano pensava davvero fossero base del vostro bagaglio culturale e personale, ma stando così le cose dovremmo ricrederci e dovremmo comunicare ai 1.500 tra dipendenti e collaboratori lo stato delle cose. Pubblicheremo questa lettera aperta su alcune testate giornalistiche al fine di informare i cittadini italiani, compresi 40.000 già laureati alla nostra università, che evidentemente dovranno sentirsi laureati di Serie B, poi voi dovrete evidentemente spiegare il perché. Questa è la lettera aperta che abbiamo letto e ovviamente è firmata dal nostro editore, il Presidente dell'Università degli Studi Nicolo Accusano, il Dottor Stefano Bambecchi. Questo è, e dobbiamo darne ovviamente conto, e l'abbiamo visto anche lo scroll di Tag24 Beoni Accusano, per leggerla è www.tag24.it. Sì, questa lettera non ha bisogno di alcun commento, però, come ha detto anche il mio collega, volete andarla a rileggere, il sito è aperto a tutti. E è gratis, quindi questi tempi non è poco. Parliamo di sport, è il penultimo blocco di questa meravigliosa trasmissione pomeriggio con noi, riusciamo a fare informazioni e intrattenimento allo stesso momento. Insomma, eccoci qua. Raffaele Ciccarelli, buonasera, buonasera, storico dello sport. Buonasera ragazzi e buonasera a tutti i telespettatori. Finalmente parliamo di un tema molto interessante. Che a te sta a cuore. A me sta a cuore, abbiamo detto il perché? Abbiamo detto il perché? Perché io sono tifosa di tutte le squadre, di tutti gli sport, quindi io tifo lo sport in generale. Non lo sa nemmeno lei a questo punto più di chi è tifosa, caro Ciccarelli, ma questo è un altro paio di maniche. 17 giugno 2001, a Roma è rivoluzione. Evidentemente sì. Il 17 giugno 2001, la Roma si laurea campione d'Italia per la terza volta. E a questo punto partono i fuochi d'artificio, stando dalle vostre parti. Niente, fu un po' senso. Un po' senso. Culturale. Perdonami, non ho sentito. È una questione culturale uno scudetto a Roma, Ciccarelli. Abbiamo anche dei video che possono testimoniare quello che è successo nelle giornate in cui a Roma si è vinto lo scudetto, perché poi nominiamo il 17 giugno del 2001 come data finale ultima, il 3-1 al Parma, però poi in realtà i festeggiamenti sono andati avanti il 17 di luglio, il 17 d'agosto, il 17 di settembre, l'ottobre. Festa nazionale. Festa nazionale. Lotta fino all'ultimo con la Juventus, che poi distaccò di solamente due punti, 75-73. Si, si è preparata. Fino all'ultimo. Fino all'ultimo. Fino all'ultimo. Fino all'ultimo, ragazzi. Deborah Carletti, numero uno. Infatti questa sera il processo alla BC del calcio. Chiuso Ciccarelli. Prego. Fino all'ultimo con la Juventus, ma anche la Lazio fu per una parte della stagione una valida avversaria. Travarenzi, Lazio, campione d'Italia in carica in quel momento là, perché l'anno prima erano stati proprio i cugini bianco-azzurri a vincere il titolo. Cugini. Cugini, io non lo so come li devo chiamare. Sì, sì, sì. Della stessa regione, giusto. Allora. Società. Ecco. Una settimana prima, però, del 17 giugno del 2001, non siamo a Roma, ma siamo a Napoli. Tanti, c'è un esodo di tifosi della Roma che vanno nella città partenopea, pronti a vivere una festa a Scudetto che parte all'ombra del Vesuvio e si trascina fino all'ombra del Colosseo, così non è. Che immagine è quella, Ciccarelli, di quei tifosi in una giornata di giugno, estiva, totalmente estiva, convinti di vincere uno Scudetto che arriverà una settimana dopo, con grande paura, perché dopo lo 0-0 o l'1-1 di Napoli, adesso non lo ricordo, avevo sei anni. 1-1, no. 1-1, ecco. Con gol di Totti, se non sbaglio. Sì, ma è chiaro, i tifosi vivono di passione. In quel momento là, è chiaro che subentrò la paura, perché sai, è un poco come si chiama il braccio del tenista, no? Quando il tenista deve fare quell'ultimo punto, però fatalmente, sbaglia uno, sbaglia due, sbaglia tre, e poi magari non riesce a fare quel punto. E' una, diciamo, il pathos finale, ecco, che poi servì anche a far esplodere ancora di più la festa, ecco, quindi a rendere ancora più dolce, diciamo così, la vittoria, se vogliamo, insomma. Ecco, una dolce vittoria. Purtroppo per il Napoli non servì quel pareggio, perché... Ma come purtroppo per... Ciccarelli è tifoso? No, no, io non sono tifoso. E lui si astiene, è giusto. Purtroppo per il Napoli, perché il Napoli retrocesse. Retrocesse, ecco, per questo. Qui, purtroppo per loro, erano appena risaliti dalla Serie B e partirono con Zeman, ma non andò bene, poi presero Mondonico, ma non riuscirono comunque a salvare. Ma ricordiamo infatti poi la squadra, la Roma, con chi giocava? Cioè, chi aveva? Ce l'ho scritto, c'ho gli appunti qua. Perché dobbiamo sapere, dovete sapere, che il signor Raffaele Ciccarelli, che è bravissima persona e grande storico dello sport, ha anche altre cariche. Insomma, il suo voto è importante anche in federazione, Ciccarelli. Sono delegato assembleare per la parte, per la voto allenatori, quando c'è da votare modifiche di statuto o presidente federale, insomma. Cosette così, insomma, che non valgono nulla nel calcio. Le fa anche Francesco come hobbies. Complimenti, complimenti. Dicevamo, gli appunti, Debora ha detto, uno squadrone, Batistuta, Totti, Montella. Li dicevo io, altrimenti no? Raffaele? Chi li dice? Li dico io? Va bene, allora, innanzitutto c'era Antonioli in porta, poi c'era una difesa imperniata su Samuel che era stato preso proprio quell'anno con i due colleghi di reparto che erano Zebbina e Zago chi se li ricorda? Nomi che poi adesso rimbombano la storia. Sugli esterni giocavano Cafu e Candelà. Quindi, scusate se è poco, a centro campo i due centrali erano Damiano Tommasi e Cristiano Zanetti, tre quarti era Totti, ovviamente, e di punta giocavano Batistuta e Del Veggio. Chiaramente la ciliegina fu Batistuta che con i suoi 20 gol contribuì a fare vincere quello scutetto alla squadra che era allenata, non lo dimentichiamo, da Fabio Capello. Abbiamo parlato infatti di Batistuta. Batistuta qualche giorno fa il Re Leone anche compiuto gli anni. qui però lo squadrone era, ecco, intanto guardiamo questa immagine. E lo vedi sottofondo Batistuta? Questi sono proprio Candelà e Francesco Totti che si abbracciano. Totti ancora sulla fascia da capitano, eh? Sì. Il giovanissimo Totti. Qui, Re di Roma a vent'anni. A vent'anni. 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 Giovanissima la squadra ma era supportata da una grande difesa quanto un grandissimo attacco. in realtà in realtà è stato in generale non solo come ti posso dire? Non so cosa vuoi dire. Vorrei dire che questa squadra con la Juventus non le potevamo paragonare. No, ho capito. entrambe allo stesso modo forti però la Roma aveva qualcosina di più. L'entusiasmo forse Ciccarelli quell'anno anche la tifoseria in quell'anno era particolarmente accesa. Quando la Roma va bene la tifoseria va bene quando la Roma va male la tifoseria va male. Aveva innanzitutto la voglia di vincere che è un elemento imprescindibile. Poi era una squadra che Capello aveva costruito nel tempo non è che l'aveva fatta la sera per la mattina era quella è stata la squadra che in quel periodo si mosse meglio sul mercato perché andò a prendere i giocatori che le servivano perché poi abbiamo citato quelli che hanno giocato i titolari ma qua vedete anche Montella che in quel campionato si mise in mostra ci stava Emerson ci stava Nakata Nakata che fece un gol importantissimo a Torino contro la Juventus però sì perché un gol che suscitò pure molte polemiche polemiche per la verità perché polemiche allora perché Nakata non avrebbe dovuto giocare quella partita in quanto extracomunitario e il regolamento dell'epoca aveva un numero preciso di extracomunitari però proprio in corsa a campionato in corso e pochi giorni prima di quella partita ci fu il via libera che permise a Nakata di cioè permise a Capello di avere Nakata a disposizione poi chiaramente il caso a volte che fosse proprio Nakata dare il via poi al pareggio che scatolì da quella partita e che è un pochino detto in via libera alla Roma per andare a vincere il titolo e quindi ci furono un po' di polemiche ma le polemiche sono diciamo abitudinarie nel calcio non ci sono polemiche noi ci preoccupiamo il calcio sta finendo allora lei Ciccarelli saprà che oggi la Ternana Calcio ha presentato un progetto importante in sede che è il progetto Stadio Clinica un progetto di cui abbiamo fatto vedere e ascoltare la conferenza stampa in apertura tra poco insieme a lei anche manderemo due esclusive da Terni del nostro Lorenzo Capessuali Ranchi perché abbiamo dovremmo avere il sindaco Latini e dovremmo avere anche un contributo con Paolo Tagliavento pollice in su dalla regia allora iniziamo dal vicepresidente della Ternana Calcio Paolo Tagliavento Ciccarelli le chiedo scusa per questo blocco ma è doveroso va benissimo Paolo Tagliavento vicepresidente della Ternana Calcio allora una serie di sfide per una società che come ha detto il presidente Stefano Bandecchi fa realizza quello che promette assolutamente sì quando un anno fa iniziamo a pensare a questa cosa e ne abbiamo parlato con il sindaco tutti ci prendevano quasi per pazzi che non avremmo che sarebbero state chiacchiere e che non avremmo portato in porto questo progetto chi invece lavora con il presidente Bandecchi sa perfettamente che tutte le cose che dice che diciamo le facciamo nostre per cercare di arrivare all'obiettivo e questo e oggi ne è la dimostrazione ecco vicepresidente quanto conta lo stadio per la Ternana e la città di Terni beh diciamo che è un elemento determinante perché comunque avere una casa accogliente sentirla propria appartenenza fa bene ai difusi fa bene alla squadra fa bene credo sia soprattutto anche alla città quindi costruire una casa degna dove dentro ti senti veramente un leone credo che sia la cosa più importante una delle cose più importanti di questa società poi c'è una data tra poco tra qualche anno che è quella del 2025 che insomma diciamocelo non è proprio casuale no diciamo che vista proprio appunto quella data se il caso voluto che il fine dei lavori se tutto va bene potranno finire in quell'anno nell'anno del nostro centenario sarebbe qualcosa di meraviglioso il destino ci ha dato questa data come fine lavori spero che ci sia un perché e allora lo stadio lo avete promesso e stiamo sulla strada per realizzarlo la clinica idem e allora quali sono le prossime sfide che una società ambiziosa come la Ternana Calcio si sta ponendo in queste ore beh sicuramente un'altra sfida è il centro sportivo sempre voluto dal presidente Bandecchi anche qui siamo agli sgoccioli finali credo che è una cosa che otterremo da qui a poco per chi lavora in Ternana e soprattutto per chi lavora con il presidente Bandecchi le sfide sono all'ordine del giorno queste sono quelle di oggi domani mattina sicuramente se ne presenteranno delle altre ma noi siamo pronti e abituati a combatterle e a vincerle e allora la fortuna aiuta gli audaci la Ternana si dimostra la società audace allora in bocca al lupo al vicepresidente Paolo Tagliaventi a tutta la Ternana Calcio grazie un grande crepillupo altri contributi? si con il sindaco di Terni Latini sempre con Lorenzo Capestoli Leonardo Latini sindaco di Terni allora sindaco intanto lo stadio una realtà che per citare Stefano Bandecchi il presidente della Ternana riporta Terni fra le città più importanti del centro Italia Terni è sicuramente una delle città più importanti del centro Italia già ad oggi quindi tutte le progettualità che possono dare lustro e occasioni di crescita ovviamente nella nostra città sono occasioni che non possiamo in alcun modo lasciarci sfuggire il nuovo stadio è un qualcosa di particolarmente importante sentito si inserisce in un contesto unico nel suo genere perché all'interno di una area sportiva già dedicata che c'è il nuovo Palasport in costruzione vedrà la luce da qui a pochi mesi c'è il complesso delle piscine dello stadio adiacente proprio allo stadio quindi completerebbe dal punto di vista urbanistico un pezzo di città importante a ridosso del centro cittadino perché lì in area sono poche centinaia di metri e a ridosso di un'importante via di comunicazione che collega Terni a Roma in macchina traffico permettento in poco meno di un'ora quindi credo che le potenzialità di una struttura del genere ovviamente è stato ricordato anche in conferenza stampa non vocata solamente allo sport sono notevoli poi di pari passo con lo stadio c'è la realtà della clinica anche qui importantissimo è aperta a tutti il tema dei servizi sanitari credo che sia sotto gli occhi di tutti quanto possa essere importante soprattutto visto che ancora parliamo con le mascherine di fronte purtroppo al nostro viso e quindi tutto quello che va a vantaggio della salute dei nostri cittadini nell'offerta dei servizi sanitari è sicuramente importante e può costituire a sua volta un'occasione di sviluppo in quelli che sono i servizi dal punto di vista sanitario quindi tutela della salute dei nostri cittadini occasioni di lavoro possibilità di sviluppare la ricerca c'è una data che si avvicina a quella del 2025 ai 100 anni della Ternana Calcio ce la faremo a vedere queste due realtà e soprattutto le chiedo umanamente da sindaco qual è l'emozione a vedere così una città che si trasforma e lei a esserne primo cittadino l'emozione è tanta la responsabilità altrettanto forse ancora di più e la data del 2025 è una data come possiamo dire simbolica e ambiziosa emozionante sfidante quindi faremo di tutto per poterla rispettare credo che ci stiamo dando una serie di obiettivi che siano talmente tanto importanti per la nostra città che cercheremo di coglierli nel più breve tempo possibile e se in questo tempo riusciamo a far coincidere una data importante come il 2025 con una data importante come quella dell'apertura del nuovo stadio saremo tutti quanti più contenti grazie mille sindaco Latini grazie a voi buon lavoro iniziative importanti sposate non solo quindi dalla società Termana Calcio ma anche dal sindaco assolutamente a favore dei cittadini perché la salute prima di tutto lo diceva anche Bandecchi la sinergia in queste cose è fondamentale e adesso si è arrivati a Dama con questo progetto molto importante allora Raffaele Ciccarelli torniamo però alla Roma no mi viene da sorridere mi viene da sorridere perché non so se per Scaramanzie o peraltro ma 2025 centenario cosa la costruzione ma magari anche la Ternana in Serie A è un obiettivo però insomma qui se lo diciamo forse per Scaramanzie non è stata detta sta cosa qua no facciamo anche gli sconciuri perché poi anche noi da buoni aziendalisti quali siamo il cuore è anche un po' della Ternana no? non nascondiamo ho degli amici ex professionisti che hanno sono di Terni hanno giocato con la Ternana quindi so che cosa il senso di appartenenza che suscita questa società ma è normale ma poi è storica io il sabato pomeriggio controllo il risultato della Ternana quando gioca il sabato pomeriggio lo dico apertamente poi un altro tema che è stato toccato anche più e più volte non solo dall'editore nonché presidente della Ternana Calcio è quello della tifoseria ecco ripartiamo da lì la tifoseria la tifoseria che a Roma è scoppiata nell'anno dello scudetto è scoppiata e non solo nella gioia i murales una Sabrina Ferilli no non lo dire non lo dire io ho un aneddoto su questo però poi non lo racconto adesso non lo posso raccontare no sto scherzando sto scherzando subito qua tutti a ridere si faccio ridere adesso non così tanto allora piccarelli io chiedo alla legione di Manguole Forcina di farci vedere l'immagine dei festeggiamenti perché Deborah ha toccato un punto fondamentale io per andare a scuola dovevo attraversare 100 gradini alle superiori questi 100 gradini che per esattezza sono 153 erano tutti colorati dal 17 giugno 2001 di giallo-rosso e ancora sono rimasti così io ricordo strade bloccate perché la gente disegnava tricolori a terra ero molto piccolo ma ricordo ad esempio vivendo a Roma mio padre mi portò su Lungotevere in macchina con la mia bandierina insomma ricordo questo flusso di gente avevo 6 anni quindi ricordi lucidi e non lucidi però culturalmente uno scudetto a Roma ne vale 100 da un'altra parte è così poi stavo per stavo per sottolineare proprio questa particolarità cioè se consideriamo che il sud o il centro sud comunque da Roma in giù ha collezionato nella storia 7 scudetti soltanto mentre il nord ne ha aiuta insomma fa ben capire come giustamente hai sottolineato l'importanza di uno scudetto vinto da Roma da Roma in giù Roma ne ha vinto i tre la Lazio 2 il Napoli 2 quindi è chiaro che hanno una valenza diversa insomma è un scudetto che viene più volte ricordato dai difosi ad oggi non in maniera completamente felice purtroppo quale? quello che adesso sono passati talmente tanti anni che si è dimenticati in un anno particolare perché poi se vogliamo raccontare il 2001 calcistico Roma e Lazio scensero in campo l'11 settembre del 2001 la Lazio in Turchia contro il Galatasaray e la Roma in casa contro il Real Madrid dei Galaticos sì è chiaro che poi quella data purtroppo non è felice ma sai poi quando ti metti ad analizzare le date poi sono tanti i corsi e i ricorsi storici se i mac si possono verificare certo è che Roma aveva festeggiato lo scudetto nell'83 adesso nel 2001 ne festeggiava un altro poi penso che dalla spunta giallorossa la gioia fosse doppia proprio perché l'anno prima avevano dovuto subire lo smacco dei festeggiamenti dei festeggiamenti io ricordo ricordo lo scudetto perso nell'84 se non ricordo male la famosa partita con Lecce e ho avuto modo di essere a cena con Ericsson un paio di poco prima della pandemia una manifestazione che c'era qua in Campania e io gli dovetti fare la domanda gli feci la domanda gli chiesi dissi mister ma me lo racconta questo episodio lui mi disse guardi i tre giorni la settimana successiva a quella partita io non ho fatto allenamento perché siamo stati tutta la settimana sotto il torchio dell'ufficio indagine perché quella partita chiaramente fu talmente strana che insomma fu oggetto di indagine però disse la partita purtroppo andò così Viola era all'epoca il presidente di Noviola venne il giorno dopo e disse mister non si preoccupi i campioni d'Italia in pectore siete voi anche se poi comunque dovete subire il soppasso alla Juventus e perdere quello scuoteco insomma va bene grazie Raffaele Ciccarelli grazie davvero grazie a voi ragazzi buonasera a voi l'appuntamento a giovedì con altre storie di sport da raccontare grazie davvero buonasera è sempre bello è sempre davvero veramente molto molto bello ma anche perché abbiamo ricordato tanti eventi storici e abbiamo ricordato quello di Roma un evento stellare stellare detto ciò mi alzo io me ne vado tra poco perché arriva il gioco viziati non viziati mi hanno detto che si chiama così viziati qui sul 264 del digitale terrestre in compagnia di Francesca Chiardi e Deborah Carletti e il gioco con il personaggio scelto accuratamente dal nostro Riccardo Borgia no non è vero andiamo in pubblicità un attimo prima la pubblicità 06 89 32 0032 mi raccomando ora si pubblicità e Grazie a tutti.